Buona settimana pubblico di youtube, siamo tornati per l'ultima puntata di questa stagione, siamo qui insieme agli I-40 gang bang 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 country NO! I-40 country gang Ma che carini, l'hanno detto anche in sincronia, vero? E' vero oggi questi due ragazzi Fai che li selezioniamo Tutta la vita, tutta la vita, fanno... Comunque, fanno un provino prima di venire da noi Nel frattempo, andiamo a salutare Dave che è dall'altra parte Io sono Simo e lui è Andre Spera di là 3, 2, 1, siamo di là E' l'ultimo video Dave Siamo qui dall'altra parte dell'acquario nella nostra regia Insieme agli I-40 country gang Siamo qui per l'ultimo puntata della stagione Ci rivedremo probabilmente a settembre senza questo individuo Magari richiamiamo anche la country gang Solo lei Perché non lo so 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 Ci vediamo presto per i prossimi video sul canale E per quelli più idioti possibili e immaginabili Che trovate sul nostro canale Crazy Corner TV A presto Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao